Ciao cari amici, vorrei attirare la vostra attenzione a una cosa molto importante a livello geopolitico, se voi siete interessati a quello che sta accadendo oggi in geopolitica, voi dovete avere non solo l'attenzione e lo sguardo puntato sull'Ucraina, perché l'Ucraina sicuramente è un luogo dove si sta svolgendo la guerra, dove ci sono le situazioni più attive, più aspre, dove c'è il combattimento, il luogo dove vari processi geopolitici si trasformano in una brutta, anzi brutale realtà e ovviamente gli occhi di tutto il mondo, tutte le persone guardano su ciò che succede in Ucraina, è normale, però a parte l'Ucraina ci sono altre zone nel mondo dove si svolgono le battaglie meno cruenti, meno coinvolgenti a livello emotivo, ma non meno importanti, e per questo se noi vogliamo avere una visione completa su ciò che sta accadendo, se noi vogliamo anche capire cosa sta avvenendo in Ucraina, bisogna saper mettere insieme tutti i puzzle di geopolitica per comprendere quali forze sulla scacchiera geopolitica stanno contrastando uno e l'altro. E adesso io vorrei attirare la vostra attenzione a un articolo di Washington Post. Washington Post ha fatto questo articolo ovviamente con una quasi velata, velato rammarico, chiamiamolo così, ovvero loro hanno parlato di questa situazione in maniera abbastanza dispiaciuta, dicendo che gli Emirati Arabi Uniti, nonostante le dichiarazioni precedenti che i leader degli Emirati Arabi Uniti hanno dichiarato precedentemente, hanno tradito queste loro dichiarazioni e stanno costruendo una base militare navale insieme con la Cina. E ovviamente uno che legge questa notizia su Washington Post, senza anche sapere quali sono le situazioni che sono stati precedenti a questa notizia e pensa a i cinesi sono entrati a gamba tesa nell'orticello statunitense anche nel Medio Oriente, come questo sapevamo prima, questo è già successo parecchio tempo fa, da quando i russi hanno vinto la guerra in Siria, e da quando i russi hanno difeso il presidente siriano Assad, tutta la scacchiera medio orientale è cambiata. I russi l'hanno fatto con aiuto cinese, non l'avrebbero fatto senza aiuto cinese ovviamente, e per aiuto cinese intendo aiuto finanziario perché i cinesi hanno sostenuto i russi soprattutto a livello economico. Poi il lavoro sporco hanno fatto i russi, i militari russi, i rappresentanti delle compagnie private russe, come ad esempio la stessa Wagner, oppure c'erano anche diverse altre compagnie private che combattevano, ad esempio c'era la compagnia privata di Gazprom, che anche quelli sono specialisti di alto livello militare, dei quali si sente parlare molto molto di meno, ma credetemi sono specialisti militari non meno importanti di quanto sono i militari della compagnia privata Wagner, anzi quelli di Gazprom sono molto di meno numericamente della Wagner, ma sono molto più preparati, molto più addestrati, sono veri e propri militari di carriera, lì si entra solo se sei ufficiale, loro non prendono sotto ufficiali tra le loro fila, quindi loro sono professionisti di alto livello. Quindi queste forze russi hanno messo in Siria per cambiare un po', per invertire la politica americana del Medio Oriente, e sono riusciti a farlo, perché gli americani hanno dovuto ritirarsi con la loro politica estera dal Medio Oriente, adesso lì sta dominando la politica di BRICS, la politica soprattutto condotta dall'impulso commerciale cinese. E quindi i cinesi, dopo aver pacificato il triangolo importante di Siria, Iran e Arabia Saudita, hanno anche influenzato il cambio della politica in Turchia, perché quando il triangolo, voi dovete sapere che nel Medio Oriente è molto importante se c'è la pace tra Siria, Iran e Arabia Saudita, se questi tre grandi paesi, che rappresentano tre poli importanti in tutti i sensi, intanto sono sciiti e sunniti, quindi sono musulmani ma di due confessioni diverse, poi hanno dei sistemi diversi, sistemi proprio di Stato, uno è un'anarchia, gli altri hanno un sistema autoritario, e insomma quando questi tre paesi si mettono in pace e cominciano a collaborare, Medio Oriente diventa una fortezza che è molto complicato da penetrare, fortezza in senso di accordi geopolitici, in senso del mercato. Ovviamente adesso questa fortezza funziona negli interessi dei cinesi, e finché i cinesi saranno lì a portare e a far crescere il mercato in quell'area, tutto andrà avanti in questo modo. Poi lo schiaffo più grande hanno fatto i russi e i sauditi, quando hanno deciso di diminuire la produzione di petrolio. Hanno fatto quello che si chiama OPEC+, OPEC+, questo è un sistema che loro hanno creato di accordi, che in grande linea è stata fatta per destabilizzare la valuta statunitense, il dollaro, il petrolio dollaro, e lo hanno fatto i russi con i sauditi, si sono messi insieme apposta, hanno voluto farlo, senza pressioni, perché anche ai sauditi non piace il fatto che gli americani si comportano nel Medio Oriente da padroni. E quindi adesso, cosa è successo? Nel 2022, gli Emirati Arabi, gli Emirati Arabi Uniti, sapete Dubai, tutta quella area che va verso il Golfo Persico, loro hanno dichiarato che costruiranno nei pressi delle loro rive, quindi nel territorio dei Emirati Arabi, però nel mare, costruiranno una piattaforma che sarà una base militare navale cinese. Quindi i cinesi avranno la base militare navale in quel territorio, ovviamente in questa base militare navale ci saranno anche le navi russe, e questa cosa ha ovviamente subito messo il panico, creato il panico nel Pentagono, nelle Stati Uniti d'America, hanno detto ma come? Adesso nel Golfo Persico questi costruiscono, noi siamo fuori totalmente da quell'area a questo punto, se navi cinesi e navi russe domineranno il Golfo Persico, ciao, noi abbiamo perso lì. Gli americani subito hanno cominciato a fare le loro pressioni geopolitiche, economiche, hanno sfruttato tutto per fare pressione su Emirati Arabi, e gli Emirati Arabi sempre nel 2022, quindi l'anno scorso, hanno dichiarato sì va bene, abbiamo cambiato idee, non faremo più niente, e gli americani si sono tranquillizzati, ah va bene, boh niente, fine, questi non costruiranno niente. Però gli Emirati Arabi sono comportati come di solito si comportano gli anglosassoni, ovvero hanno raccontato una menzogna, hanno assicurato tutti che non faranno niente, e invece continuano a farlo. Adesso Washington Post dice che gli Emirati Arabi hanno usato la stessa tattica politica che hanno diverse volte utilizzavano i paesi occidentali, quando dicevano, no no, ma noi qua in quest'area non faremo niente, noi non spingeremo la NATO all'est, ma state tranquilli, noi non vogliamo minacciare la Russia, noi non vogliamo spingere le basi NATO ai confini della Russia, a noi non servono i nuovi membri nella NATO, noi non prenderemo gli altri paesi nella NATO, come dicevano negli anni 90. Poi sono arrivati con le loro basi NATO ai confini della Russia, hanno integrato, inglobato anche attraverso tutti i sistemi di ricatti, di cospirozionismo, insomma, hanno fatto di tutto per inglobare il più possibile paese all'interno della NATO, ed sono belli lì che sorridono, mentre minacciano la Russia con il coltello proprio, punzichiando con il coltello nella pancia, il coltello ovviamente è l'Ucraina, e anche Finlandia, anche i paesi baltici. E a questo punto lo stesso stratagemma hanno usato i rappresentanti degli Emirati Arabi Uniti, hanno detto noi non faremo la base, ma in realtà lo stanno già completando. E adesso il Washington Post ha condiviso questa preoccupante notizia, dicendo guardate che Emirati Arabi, intanto si comportano nei confronti del mondo occidentale, non più come sudditi, non più come quelli che hanno bisogno di consenso occidentale per fare qualcosa, loro ormai si comportano come i giocatori geopolitici indipendenti, perché loro dell'Occidente se ne sbattono, non hanno più bisogno, loro hanno cinesi, hanno loro interessi con i cinesi, e stanno costruendo questa cosa insieme con i cinesi. Non vi piace? Potete andare a piangere, potete arrabbiarsi, potete litigare con la vostra mamma, ma a noi non interessa questa cosa. Noi siamo concentrati sulla nostra linea politica. Ovviamente gli americani dicono che l'intelligence statunitense adesso è preoccupata, sta seguendo questa cosa, sta cercando di capire, però l'intelligence statunitense ormai non può fare niente, perché il Golfo Persico è perso per Stati Uniti d'America, loro non riusciranno più a avere dominio in quel territorio, gli arabi, sia Emirati Arabi, sia Arabia Saudita, hanno insieme scelto il vettore della loro politica. Il vettore della loro politica è la collaborazione commerciale con la Cina e con la Russia, commerciale e anche militare. Io vi ricordo che recentemente è avvenuto quello che ancora due o tre anni fa non si poteva neanche immaginare, cioè la nave militare russa nel Golfo Persico è entrato nella base navale di Arabia Saudita, è stata accolta lì con grande onore, si è fermata, loro hanno fatto tutte le cose diplomatiche, si sono incontrati, i militari, i rappresentanti della marina araba, hanno visitato la nave, hanno fornito alla nave ovviamente il carburante, tutto, si sono scambiati dei segni di rispetto, questa è una cosa, cari amici, importantissima a livello geopolitico. Il Golfo Persico, i paesi del Golfo Persico, che per decenni si trovavano sotto il dominio degli anglosassoni, degli americani, dove americani facevano quello che volevano, dove loro progettavano le guerre, finanziavano le guerre, sfruttavano petrolio, dove loro mettevano al potere quelli che volevano, adesso americani sono stati tagliati fuori, e non tagliati fuori e basta, sono stati tagliati fuori per dare spazio ai russi e ai cinesi. Questo è il vero senso molto importante di ciò che sta avvenendo in Medio Oriente. I russi e i cinesi stanno conquistando gli spazi che prima appartenevano agli Stati Uniti d'America e alla Gran Bretagna. E ovviamente questo all'oligarcato occidentale non piace, però l'oligarcato occidentale non può più fare niente, perché non ha più nessun tipo di leva sui paesi medio orientali, perché ormai questi hanno una politica indipendente nella gestione del petrolio, hanno una politica indipendente nella gestione delle proprie risorse, sono arricchiti, hanno tanti soldi, non sono corrottibili, perché non puoi corrompere coloro che già hanno talmente tanti soldi che riescono a corrompere anche i tuoi rappresentanti corrotti. Vi ricordo come i nostri italiani, i nostri politici italiani, che figuracce, che da straccioni che hanno fatto quando sono andati in Medio Oriente, poi tornavano con orologi, che si vendevano da poco. Lì veramente gli italiani hanno fatto schifo, intendo non i nostri cittadini, intendo i nostri schifosi politici. Sono andati lì e si sono venduti proprio a... sono bastati due orologi per comprare questi deficienti. Così anche come è successo con l'ultimo evento sportivo, quando hanno organizzato questa cosa di calcio. Anche lì si è parlato molto di quanto Commissione Europea, così poi sono uscite fuori le cose schifose, perché questi hanno comprato i nostri politici. I nostri politici sono come delle prostitute, solo che le prostitute hanno più dignità, perché le prostitute sanno cosa fanno, si vendono per quello che è loro, perché una prostituta decide di vendere il proprio corpo e non vende, diciamo, la dignità di milioni dei cittadini europei, come fanno i politici nostri. Perché quando un nostro politico si vende, lui vende insieme con la sua dignità e la sua, come dire, lealtà, vende anche la dignità di milioni dei cittadini che rappresenta. Per questo chiamare prostituta un politico europeo è anche, come dire, vuol dire denigrare la categoria delle prostitute, che sono con tutto rispetto persone che comunque lavorano. Questi invece sono veramente dei schifosi, antipatici personaggi che venderebbero la loro madre. E loro sono andati lì e sono stati comprati da coloro che ancora qualche decennio fa erano totalmente controllati da questa gente, da questa oligarchia anglosassone. Adesso l'oligarchia anglosassone perde i propri schiavi perché i loro schiavi vengono comprati da coloro che ieri anglosassoni manipolavano. Quindi il senso di Medio Oriente è questo. Medio Oriente è totalmente sfuggito dal controllo degli anglosassoni. Questa costruzione della base navale sul territorio, nel mare degli Emirati Arabi Uniti è un segno che Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita si sono messi insieme perché intanto Emirati Arabi non avrebbero fatto questa scelta senza prima averla discusso con Emirati Arabi perché ricordate che Emirati Arabi in quella zona è il paese più grande, più imponente, più importante e anche rappresenta la vera potenza regionale. Qualsiasi cosa un paese vuole fare va a discutere sempre, va a chiedere permesso agli Emirati Arabi. Se i Emirati Arabi dicono sì potete costruire questa cosa vuol dire che è comodo anche a loro vuol dire che anche loro hanno interesse magari anche loro sono all'interno di questo progetto e secondo me sì perché altrimenti non avrebbero rispettato la nave russa con tutti questi onori non avrebbero dato tutto questo onore ai russi e quindi questa base navale cinese russa cinese che sarà costruita tra poco sarà finita loro dicono che entro 2023 sarà in servizio quindi voi immaginate anche giganterie di questo progetto cioè quante aziende lavorano là quanto investono e quanto importante poi sarà questo luogo questa base navale loro dicono sarà finita entro 2023 e sarà già in servizio non sarà finita sarà già in servizio entro 2023 quindi entro 2023 in questa base navale saranno già presenti le navi cinesi e russe e ovviamente questa cosa questa notizia spiega molto bene ciò che sta accadendo nel Medio Oriente e spiega molto bene che la Cina con i suoi soldi la Russia con la sua struttura commerciale che allora hanno creato questa nuova nuova strada commerciale che parte da San Pietroburgo e arriva a Delhi e con la sua struttura militare sono nuovo polo di potere in quella regione Stati Uniti d'America la Gran Britannia hanno si può dire hanno avuto un trattamento veramente spreggevole da parte degli arabi che si può dire uno schiaffo anche di più e non possono fare niente purtroppo questa unica cosa che possono fare possono pubblicare articolo su The Washington Post articolo dove questi piagnucolano dicono eh ma come ma arabi hanno detto che non faranno la base adesso la fanno ma come mai arabi non hanno fatto nient'altro se non ripetere quella che è da sempre la politica e il modo di fare statunitense anglosassone ovvero promettere una cosa e poi fare l'altra quindi gli arabi con questa base navale hanno per usare un termine moderno hanno trollato il potere oligarchico anglosassone questo è un trolling diciamo dell'anno hanno fatto gli arabi quando hanno detto che no no noi facciamo niente poi hanno fatto questa base navale grazie cari amici per essere stati qui con me vi invito di iscrivervi al mio canale youtube è molto importante mettete per cortesia like oppure dislike commentate per me è molto importante sapere cosa pensate leggere i vostri commenti vi mando un forte abbraccio grazie per il vostro sostegno